Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È un esempio di integrazione il comune di Penne che ospita nel centro della riserva naturale 40 profughi provenienti dall'Ucraina, per la maggior parte donne, che stanno riuscendo ad inserirsi nel tessuto sociale della città vestina e che possono contare su un ambiente accogliente e un luogo assolutamente ospitale come la riserva naturale. Gilberto Petrucci, sindaco di Penne, una situazione virtuosa per quel che riguarda i profughi che arrivano dall'Ucraina, è un esperimento che sta dando i suoi frutti e anche grandi risultati. Noi siamo stati il primo comune della provincia di Pescara a stipulare una convenzione con la prefettura di Pescara. Abbiamo 40 profughi ucraini, si sono integrati, hanno frequentato i bambini, le nostre scuole, abbiamo attivato molte iniziative sociali e credo che questo modello all'interno della riserva regionale Lago di Penne sia vincente perché oltre alla tutela dell'ambiente abbiamo esportato davvero un modello basato non solo sull'accoglienza dei profughi ucraini ma anche i richiedenti asilo politico e soprattutto un centro di urno per disabili. E poi anche la possibilità davvero di integrarsi in un posto che possiamo dirlo è quasi un posto paradisiaco in contrasto con quello che invece è una realtà assolutamente diversa. Un posto meraviglioso non solo perché abbiamo davvero tanto da mostrare sotto l'aspetto delle eccellenze naturali ma anche perché abbiamo creato una serie di sentieri naturalistici, abbiamo creato e costituito anche grazie agli operatori che lavorano nell'area protetta da diverse iniziative per lo studio, per la formazione ma anche e soprattutto per l'aspetto ludico. Soprattutto con molte donne e anche bambini che si stanno anche cercando di reinserire. Sì, quello l'aspetto più importante è proprio questo, l'integrazione. Abbiamo basato il nostro progetto proprio sull'integrazione ed è un'arma che sta portando buoni frutti.